Ben ritrovati dalla redazione nell'ambito della costante attività di prevenzione e repressione dei reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone più sensibili della città di Trieste. Nel pomeriggio del 28 agosto scorso la Polizia di Stato di Trieste è tratto in arresto un 35enne africano per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sequestrato un mezzo chilo di cocaina e 20.000 euro in contanti, in particolare gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile della questora di Trieste nel corso di un servizio di rutini in centro città hanno notato un uomo camminare a passo spedito con fare ambiguo, insospettitosi con l'ausilio di personale della squadra volante e hanno deciso di fermarlo. L'uomo si è dato a precipitosa fuga, liberatosi lungo il tragitto di numerose dosi di sostanza stupefacente. Il soggetto in seguito del personale operante è stato subito dopo rintracciato e fermato all'interno di un esercizio pubblico sito nei pressi di piazza Garibaldi. Pacco sospetto nella zona della stazione ferroviaria, la Polizia di Stato, i carabinieri, la Polizia Locale, i vigili del fuoco con il supporto di un canna destrato nella serata di ieri ha cinturato l'intera area compresa tra l'ingresso della stazione via Flavio Gioia per accertare la presenza di un pacco rivenuto in strada. I controlli non hanno portato ad alcun esito. 600 firme in una settimana e una corsa contro il tempo quella ingaggiata dai residenti del rione di Gretta a Trieste. Il 30 settembre l'ufficio postale di via dei Carmelitani tutt'ora in funzione, a differenza della sede di via Combi con cui condivide il destino, chiuderà definitivamente come recita l'avviso incollato all'ingresso. Mancano cioè meno di 20 giorni per tentare di bissare il successo ottenuto alla fine del 2019, allorché la cessazione del servizio fu scongiurata in extremis, pur con una significativa riduzione del personale. Ma in questo caso la situazione a Gretta è ancora più complessa a causa delle caratteristiche del rione densamente popolato e con una età media avanzata. Molti residenti sollecitati sull'argomento non risultano informati della chiusura e la maggioranza confida che anche questa volta si possa stoppare all'ultimo la chiusura. A Trieste è stata stimata intorno al 70% l'adesione allo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, proclamato da FICGL, FIT, CIS, Will Transport, IFAISA, CISA, le UEGL, FNA. La protesta dei lavoratori del TPL nel capologo del Friuli Venezia Giulia si è svolta dalle 9 alle 13, dalle 18 e 30 alle 22 e 30. Il segretario della FICGL di Trieste, Stefano Mauro, ha detto che si sono registrate adesioni pari al 70% e nel pomeriggio sono addirittura aumentate. A Gorizia e Udine lo sciopero nel pomeriggio, a Pordenone orari differenziati per il trasporto urbano e per quello extraurbano. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per quanto riguarda la nostra regione. Cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa, con venti a regione di brezza. Nel pomeriggio cielo variabile sulla zona montana, è possibile qualche rovescio o qualche temporale che dalla fascia prealpina potrà poi interessare anche l'alta pianura alle valli del Natisone. Temperature minime in pianura fra 13 e 16, le massime fra 25 e 28, sulla costa minime fra 17 e 20, le massime fra 25 e 27 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FWG Meteo. Ed è tutto per il momento con informazione, grazie per averci seguito, a più tardi. Grazie a tutti.